Ragazzi, prima di iniziare con il video iscrivetevi, dopodiché attivate la campanellina e cliccate su inviami tutte le notifiche di questo canale. Dopodiché lasciate un bel mi piace e potete startare il video. Buona visione! Siamo tornati su Clash of Clans perché c'è stato un nuovo aggiornamento. Allora, l'aggiornamento della strega notturna, della bassalla del costruttore a livello 6 ed infine della macchina da guerra a livello 10. Inoltre però, c'è stata anche sta cosa. Aggiornamento lampo del villaggio base, migliora cannone, torno della cera e torno infernale, fai salire il livello pecca e bla bla bla. Allora, noi, prima di tutto, andiamo a migliorarla. La portiamo a livello 10, vai! Poi, andiamo a migliorare anche questa e non possiamo però. No, l'abbiamo spiegato, potremmo perfezionare quella, vabbè ormai, miglioriamola. Questa, ci serviamo già al 10. Questa, dobbiamo perfezionarla. Ok, va bene, la prossima cosa che faremo invece sarà perfezionare questa. Poi invece, multimortaio. Multimortaio, come si fa? È vero, non posso farlo perché non ce l'ho neanche il mortaio. Allora, il doppio cannone, perfezionare non si può perché... Eh, infatti, al 4 ce lo devo avere. Allora, andiamo subito. Allora, ora vi farò vedere la strega notturna. Andiamo... Ah, ecco qua. Strega notturna. Allora, livello 1, che non ce l'ho neanche. Allora, danni al secondo 90, punti vita 200, massimo unità evocate 3, bersaglio preferito qualsiasi, tipo di danno d'area, bersagli, terra e aria, unità per accampamento 2, peso sulle trappole 12, velocità di movimento 12, bersaglio preferito pipistrello, danno al secondo 20. Punti vita 10, bersaglio preferito qualsiasi, tipo di danno, bersaglio singolo, bersagli, terra e aria, velocità di movimento 57, quindi è molto veloce. Vediamo, aspetta, vediamo se sono più veloci i goblin. Qual è più veloce, il goblin o quello? O il goblin? Eh no, è più veloce il pipistrello, raga. Gli sgherri, invece, il sgherri è uguale al goblin, quindi è più veloce il pipistrello. Non lo sapevo, non me lo aspettavo, sinceramente. Poi, come vedete, ho fatto anche la minera gemme, e ho messo a migliorare i petardi. Ma, io direi, no, non possiamo attaccare, perché, eh, vabbè, quando avrà migliorato i petardi possiamo attaccare. Quindi, questo video breve, spero che vi sia piaciuto, magari non posso, è stato molto breve, solo per aggiornarvi, perché c'erano solo queste cose. Eh, noi ci vediamo al prossimo video, sorpresa, ci sarà un video inaspettato anche oggi, se tutto va bene. Oggi, non perdetevi il video, la sorpresa è bella ragazzi. No, aspetta, com'è, non è il mio outro. Bella, ragazzi, ciao!